Ciao a tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e quest'oggi siamo un nuovo video vlog. Allora quest'oggi comunque è un video vlog molto particolare. Diciamo volevo dare appunto, darvi quali aggiornamenti della mia, se c'è del mio canale e poi vorrei lanciare una nuova serie. Allora, gli aggiornamenti sono comunque come avrete sicuramente notato e che ho comunque, ho aggiunto una intro a ogni video, poi ai video comunque ho migliorato la facecam, quindi l'ho resa rotonda, quindi pure è un po' più, è un po' più carino da vedere, poi voi vedrete sicuramente più video, perché comunque la space, la webcam è più piccola e quindi comunque ho fatto dei miglioramenti al punto di vista qualitativo dei video. Poi ho migliorato ovunque il fatto della frequenza comunque denotato e li sto portando tutti i giorni video e praticamente cercherò di portarveli tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. E comunque vi chiedo poi da parte vostra di supportare questi video che faccio, le serie che faccio con un bel mi piace, perché solamente mettendo un mi piace ai miei video e posso comunque, posso sapere se è una serie che vi possa piacere o meno. Poi ho iniziato comunque una nuova serie, quella appunto delle creepypasta, che comunque avevo già iniziato in precedenza, però ora l'ho iniziata in modo, come dire, migliore, perché comunque l'ho portata, diciamo, perché prima ero io che mi registravo e raccontavo la creepypasta, mentre ora comunque ho una descrizione, quindi si sente sulla mia voce e quindi una serie di immagini che posso comunque farvi entrare meglio nel pensiero di quella creepypasta, quindi posso farvi entrare meglio in quel racconto. Poi, infatti in questo momento, mentre sto registrando questo video, sta caricando il video di Pocapasta 633, che comunque ovviamente già quando pubblicherò questo video, già avrete visto. Poi, ora parliamo della nuova serie che vi dicevo prima e vorrei portare sul canale, ovvero quella appunto del Parla con Master King, ovvero una serie in cui ovviamente voi, ovviamente voi, nei video precedenti, scriverete i commenti delle domande e appunto io le quali cercherò in qualche modo di rispondere se mi è possibile. Quindi comunque, magari in questo modo c'è, ci può essere una maggiore interazione tra me, youtuber e voi iscritti e quindi comunque potrebbe sembrare, potrebbe sembrare una cosa carina da poter portare sul canale. Poi parliamo di questa nuova serie, abbiamo comunque, ho nel video di Plug Ink, l'ultimo fatto, e un ragazzo, un iscritto di un HD e mi chiede se farò una serie di scherzi telefonici. Allora, questa a parer mio potrebbe essere una cosa da fare, diciamo, però non una vera e propria serie, però al massimo, ne so, un paio di video, una cosa del genere, però comunque potrebbe essere un'idea carina da portare sul canale. Poi, mi raccomando ragazzi, di iscrivervi al canale, di inserire qui sotto, nei commenti, questo video che state vedendo in questo momento, delle domande che vorreste che io rispondesse ai prossimi video, e direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando mettere un bel mi piace e commentare, e iscrivervi al canale, come ho già detto, e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutte!